Bentornati amici di Tuccino Italia, oggi parliamo di 5 film a tema grandi montagne. Mi raccomando, prima di cominciare iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche, a voi non costa niente, per noi vale davvero tanto. La spedizione in memoria di Sigilò al Nanga Parba è terminata il 27 giugno di quest'anno con la conquista della vita. E il grandioso successo di questa squadra è stato tragicamente offuscato da chi non ha rispettato le direttive del campo base. Quello che sta dicendo il dottor Carmary e Erlicofer non è la verità! Quanto è alto il Nanga Parba? Abbastanza. E volete raggiungere la vetta? Beh, certo. Al quinto posto della classifica dei consigli di oggi parliamo di Nanga Parbat, un film che racconta le gesta di uno dei più grandi alpinisti della storia, nonché un altatesino di nome Reynold Messner. Nel 1970, Reynold, in compagnia del suo fratello Gunther, sono stati chiamati per una spedizione sul Nanga Parbat, una delle 14 montagne malayane che superano gli 8000 metri, una delle più pericolose, insieme alla Napurna e il K2. La storia è reale, infatti come avete già visto loro riuscirono ad arrivare in cima, ma il come ci arrivarono e che cosa dovessero affrontare per toccare quella vetta? Beh, tutto questo lo rende un film eccezionale, un must see per tutti coloro che amano l'alpinismo. Beh, per chi non conoscesse la storia di Reynold Messner e la sua biografia, questo è il film che fa assolutamente per voi. Mi dispiace non potervi raccontare null'altro, ma purtroppo qualunque cosa in più io vi dica è semplicemente uno spoiler. Quindi, ragazzi, guardatelo, non ve ne pentirete. If you give up, you die. There are only 14 mountains in the world, higher than 8000 meters. The fastest time to climb all the 14 for seven years. The plan is to go and hit the summit directly. If I can stay alive, I can do this in seven months. Al quarto posto, per omaggiare Nirmal Purjaa e per onorare la sua impresa, abbiamo voluto inserire 14P. È un docufilm distribuito da Netflix, quindi tutto quello che starete guardando sono immagini reali dell'impresa che ha segnato per sempre la storia dell'alpinismo. Partiamo da una cosa fondamentale per chi non conoscesse l'alpinismo. Beh, per preparare una spedizione sull'Everest ci vogliono all'incirca due o tre mesi. Per gli alpinisti esperti, ovviamente, lui si era messo in testa di scalare tutte e 14 le grandi vette dell'Himalaya in sette mesi. Prima di lui, il record di scalata di tutte e 14 le vette era stato di sette anni. Ora, non vi parliamo assolutamente di supereroi o di superpoteri, ma dobbiamo spiegarvi che gli Sherpa sono discendenti da tribù e da civiltà che hanno sempre vissuto al ridosso dell'Himalaya, quindi sopportano molto meglio le alte altitudini rispetto a un europeo o un americano. Le probabilità di successo di un alpinista non Sherpa sono state valutate in 0%. Perché dovete guardarlo? Beh, ve l'ho appena spiegato, perché tutto questo docufilm è una storia incredibile. Al terzo posto abbiamo voluto inserire un altro film tratto da un evento reale, la storia di Tony Kurtz e Andy Intersteuser. Siamo nel 1936, le grandi montagne himalaiane sono ancora totalmente inviolate, quello che rimane di inviolata in Europa è una parete, la parete nord dell'Higel. Stiamo parlando di parete nord perché l'Higel in realtà è già stato scalato, ma non da questo versante, poiché ritenuto semplicemente impossibile. Impossibile per le sue pendenze proibitive e soprattutto perché il meteo era assolutamente imprevedibile. Da un secondo all'altro sarebbe potuta arrivare una tempesta gelida pronta a spazzare via qualunque cosa da quella parete. Nel 1936 però, ovviamente, non mancavano le teste calde pronte a mettere la loro firma su quella parete e stiamo parlando proprio di Tony Kurtz e Andy Intersteuser. Ma questo ragazzi non è un film assolutamente banale, tocca vederlo per scoprire se davvero sono riusciti ad arrivare in cima oppure se su quella parete ci sono rimasti. Boop! Uuuuuhhhhhh! Sembri a pezzi! Il mio stomaco è sotto sopra! Hai visto Doug? Oh sì, lui è molto... molto molto indietro ancora! Al secondo posto della classifica dei consigli di oggi, Everest. Un film che ovviamente parla della più alta montagna del mondo. 8.848 metri di pura maestosità. Se prima non era cosa da tutti quella di raggiungere la cima del re di tutte le montagne della Terra, beh, ora si trova ad affrontare il problema totalmente opposto. Infatti è invasa da turisti da ogni dove. Tutti all'assalto del gigante, ma questa è una piaga gigantesca per il mondo dell'alpinismo. Infatti che ci crediate in noi, il sovraffollamento sull'Everest provoca tantissimi morti. Infatti quando si programma un assalto alla vetta bisogna rispettare dei precisi orari, poiché l'ossigeno è su misura e le condizioni climatiche al di fuori dell'orario programmato possono variare portando a conseguenze disastrose. Questo film parla per l'appunto di una catastrofe, 10 maggio 1996. Per chi non è avvezzo all'alpinismo questa data non significa assolutamente niente. Ma per chi l'alpinismo lo conosce e ne è appassionato, beh, questa data rappresenta una delle più grandi tempeste mai viste dall'uomo sull'Himalaya. Indovinate a causa di cosa si è giunti a questa catastrofe? Infatti, per colpa dei ritardi e dell'inesperienza di alcuni membri dell'espedizione. Guardatelo per capire che cosa significa davvero essere un alpinista. è del perché gli alpinisti mettono a rischio la propria vita per portare delle persone lassù. Sapevamo quanti prima di noi non ce l'avevano fatta. Quindi sapevamo che era dura. Quando arrivi a un certo punto, puoi contare solo sul tuo compagno. Simon! Al primo posto abbiamo voluto inserire Touching the Void, o meglio, in italiano, La Morte Sospesa. Perché? Beh, perché è una delle più assurde, più incredibili e fantasmagoriche storie sul mondo dell'alpinismo in generale. Non siamo né sulle Alpi né sull'Himalaya, ma sulle Ande, in America Latina. Le Ande, nel mondo dell'alpinismo, sono delle montagne molto particolari. Non sono nevose come quelle dell'Himalaya o le Alpi, non posseggono neve fresca. Questo perché sono molto più ripide e molto più esposte ai venti rispetto alle altre catene montuose. Questo significa per gli alpinisti trovarsi a scalare su ripidissime pareti di ghiaccio. Tutto questo, condito con altrettanti giganteschi crepacci, ne fanno una delle catene montuose più pellicolose sulla Terra. In questo film, due giovani alpinisti cercano di scalare una delle tante vette delle Ande, ma quello che succederà ha davvero dell'incredibile. Uno, uno dei due giovani alpinisti si romperà una gamba, quindi il suo amico sarà costretto a calarlo giù per la montagna. Due, proprio per non farci mancare nulla, il ragazzo che si era appena rotto la gamba si trova a Penzoloni sul ciglio della montagna e il suo amico che lo sorregge con una corda la taglierà, ovviamente per salvarsi la vita. Quello che non può sapere però è che il suo amico dopo essere caduto per circa 20 metri all'interno di un crepaccio è ancora vivo, con una gamba rotta e nessuno lo verrà mai a sapere. A questo punto non vi posso più dire assolutamente niente perché è tutto uno spoiler, anzi ho già esagerato. Ma con questo chiudiamo qui e ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like che ci fa sempre piacere. !